Benvenuti alla resegna stampa di oggi martedì 24 gennaio sul canale 17 di Fano TV c'è l'informazione di prima mattina in diretta per la lettura dei quotidiani che come sempre abbiamo qui nel nostro touchscreen ovvero il resto del Carlino e il Corriere Adriatico nelle edizioni di Pesaro e Urbino cominciamo dal santo di oggi il santo di oggi è un santo che ci riguarda ci fa piacere ricordarlo è San Francesco di Sales che è patrono dei giornalisti il sole sorto alle 7.37 tramonterà alle 16.59 per quanto riguarda il tempo oggi avremo un cielo inizialmente nuvoloso o molto nuvoloso con parziali schiarite nella seconda parte della giornata specie nei settori settentrionali le precipitazioni saranno deboli residue al primo mattino sul settore interno meridionale nevose al di sopra dei 1200 metri le temperature sono in diminuzione i venti deboli dai quadranti settentrionali moderati lungo la fascia costiera per domani mercoledì 25 di gennaio cielo parzialmente nuvoloso o nuvoloso per banchi di nuvole basse le temperature sono in lieve diminuzione i venti deboli dai quadranti settentrionali per giovedì 26 gennaio invece cielo parzialmente nuvoloso con nuvole basse temperature in lieve diminuzione nei valori minimi per i prossimi giorni avremo tempo stabile apriamo adesso il giornale dunque cominciamo dal Corriere Adriatico il titolo è per i profughi che andranno nelle zone terremotate saranno formati per aiutare Ceriscioli va da Del Rio salta dunque a Pesaro il consiglio sulla sanità il focus si sposta sui migranti sul bilancio Doudes comincia così l'articolo del Corriere di oggi i profughi ospitati a Pesaro iniziano la preparazione per poter aiutare le zone terremotate quello di ieri doveva essere un consiglio comunale dedicato in buona parte alla sanità invece è saltato tutto perché Luca Ceriscioli è stato convocato dal ministro del Rio per la commissione grandi rischi e dunque per parlare di emergenza terremoto e anche delle dighe erano attesi in consiglio a Pesaro anche i responsabili dell'area vasta 1 Maria Capalbo Giovanni Fiorenzuolo e tutto l'entourage insomma della sanità per parlare appunto di questo tema ma poi è saltato tutto quanto a centropagine invece vedete Rigopiano nel bar c'è nel bar dell'albergo sepolto dalla valanga c'è l'ultima speranza estratti tre cagnolini vivi delle macerie si prega per i dispersi Samuel resta in ospedale ha capito che i genitori sono dispersi però lui continua ad aspettarli questa è la prima pagina del Corriere Adriatico da Fano invece il ricordo di Andrea Monaldi Andrea Monaldi è il giovane che è morto in un incidente stradale sabato fisico d'acciaio cuore grande il gigante buono lascia un vuoto sotto sequestro la salma di Andrea Monaldi la procura procede per omicidio stradale dunque c'è dolore e angoscia sono l'effetto della morte violenta improvvisa in un incidente stradale di un ragazzo pieno di energie e appassionato della vita come appunto lo era Andrea Monaldi ricordo orgoglioso degli amici alla palestra Audax dicono non lo dimenticheremo mai mentre sopra vedete nella foto il giovane praticava tutti gli sport e aveva un animo generoso era stato assunto dall'azienda Guerrieri questa è la pagina di Fano sotto invece una donna di 64 anni non si presenta al lavoro la trovano morta a causa di un malore in casa l'allarme dai colleghi della sanità Teresa Nardo 64enne di origini romana residente a Fano la donna era nubile viveva sola era conosciuta in zona per essere una forte fumatrice solo la sera precedente alla sua morte era stata vista al bar gli unici familiari erano due sorelle che vivono a Roma e con le quali non aveva frequenti rapporti e questa è la notizia che trovate sul Corriere Adriatico di questa mattina la pagina di Fano così come a pagina 41 invece la notizia che i vongolai tornano a sorridere il nuovo anno di pesca parte con la riduzione della taglia minima dei molluschi il portavoce dice provvedimento a lungo atteso che elimina multe salate e ingiuste la precedente misura dettata da questioni commerciali il settore è comunque già in lieve riprese sotto nuova vita al laboratorio di biologia marina di Fano l'università di Bologna infatti non lo chiude il sindaco chiede un museo marinaro all'interno di questa struttura che si affaccia proprio sulla spiaggia di Sassogna a Fano aeroporto dal controllo di tutti i conti il risanamento dell'aeroporto fatturato annuale ammonta a 340 mila euro da verificare l'uso dell'aumento di capitale secondo il nuovo amministratore Ruggeri la gestione è utile anche con la pista in erba le mamme chiedono il metodo Montessori nasce un gruppo Facebook che domani organizza un convegno e invita il comune e poi ancora dalle pagine del Corriere Adriatico siamo sulla Valle del Cesano blackout e internet in tilt siamo a Marotta il comune corre ai ripari il vice sindaco assicura che partirà a breve l'ammodernamento delle linee elettriche intanto gli utenti lamentano carenze di connettività negli ultimi anni dicono la situazione è peggiorata e oggi davvero si fa tutto attraverso internet quindi una rete lenta significa anche lavorare male per esempio muffa infiltrazioni si fa lezione nel corridoio a San Lorenzo in campo si è riproposto il disagio già segnalato la minoranza dice il comune deve risolverlo parliamo delle lezioni in corridoio ieri mattina per gli alunni della seconda B della scuola primaria Bettini di Viale Regina Margherita al fianco dei cittadini contro le truffe siamo a Terre Roveresche nel comune di Terre Roveresche contro truffe e ogni abuso polizia locale il bilancio della comandante che dice viva il nuovo comune Terre Roveresche il commissario Marisa Amabile e la comandante Milena Orlandi vedete in questa fotografia sul Corriere nel 2016 230 posti di controllo 105 verbali 11 incidenti e 2 cicli di incontri con i residenti parliamo dunque dell'attività della Polizia Municipale di Terre Roveresche da Senigallia invece inverno con sosta meno cara sconti ai clienti degli alberghi parcheggio dell'ex navalmeccanico a pagamento solamente nei mesi estivi il pattinodromo per la prima volta costerà 9 euro all'ora per ogni attività musica alta invece sempre da Senigallia i vigili urbani sono a letto l'ira di un residente di Piazza del Duca rumori oltre le due di notte ma nessuno ha risposto al telefono dalla pagina dalla cronaca di Urbino siamo a Fermignano il rogo dalle scintille del camino madre e figlia restano ustionate un incendio in un casolare nelle campagne di Fermignano l'anziana è stata trasferita al centro grandi ustionati di Parma due persone l'anziana madre di 86 anni e la figlia di 51 sono rimaste ustionate in un incendio scoppiato alle 10.30 ieri mattina in un casolare di campagna della zona sogesta nel comune di Fermignano questa è la cronaca da Urbino da Pesaro invece Pesaro e provincia la banda della Pericena sventra una cassaforte un altro colpo messo segno in orario preserale i proprietari rientrano e trovano la casa svaliggiata i ladri si sono arrampicati per la grondaia qualche vicino ha sentito rumori ma non ha visto o non gli ha dato peso hanno approfittato del fatto che in casa non ci fosse nessuno per introdursi dentro questa abitazione al primo piano in via Bertani in zona Piazza Redi nel quartiere di Monte Granaro siamo sulla cronaca di Pesaro Notte Brava guida senza patente e non si ferma all'alt al volante di una BMW un giovane viene inseguito e arrestato dai carabinieri è successo in via San Giovanni in Marignano a Gradara e adesso la pagina dello sport perché questa mattina c'è da segnalare l'esonero del mister del Fano dell'Alma Juventus Cusatis il Fano esonerato Cusatis squadra affidata a Cuttone toccherà al navigato tecnico il difficile compito di raggiungere la salvezza oggi il primo allenamento con appunto Agatino Cuttone lo vedete in questa fotografia pubblicata sul Corriere nella pagina di Sport per lui parlano le due salvezze in terza serie ottenute in corsa con San Marino e Sant'Arcangelo dunque l'uomo della salvezza almeno così dovrebbe essere sulla carta adesso andiamo sul resto del calino la prima pagina è per la discarica o meglio per la provincia in bolletta dopo vent'anni arriva il conto dell'esproprio della discarica di Casprete un milione e mezzo di euro Domenicucci dice non abbiamo soldi la regione paghi anche la nostra metà e questa è la fotonotizia in primo piano poi tutti i sogni spezzati di Jacopo lo sport il lavoro la fidanzata il 24enne morto in moto aveva trovato un'occupazione e frequentava una ragazza anziana avvolta dalle fiamme dal camino a Fermignano voleva scaldarsi adesso è gravissima ferita anche la figlia entriamo nelle pagine interne ripartiamo dalla tragedia di Jacopo aveva appena trovato il lavoro della fidanzata titola così il resto del carlino il retroscena della vita del 24enne schiantato si in moto a Marotta assunto in un'azienda di barchi da due mesi frequentava una ragazza di Parma queste sono foto di momenti di serenità di gioia di vita di vita piena di un giovane che altrimenti non può che essere così di un giovane di 24 anni con la box che è la sua era la sua passione così come l'alpinismo e il mare la dinamica non ci sarà l'autopsia intanto così scrive il resto del carlino era diretto a fare la spesa poi l'impatto fatale la procura di Pesaro ha ritenuto che sul corpo di Monaldi di Jacopo Monaldi non sia necessario effettuare l'autopsia per accertare l'esatta causa della sua morte c'è e cambiamo argomento c'è un un profilo facebook falso di Matteo Ricci il sindaco di Pesaro che fa arrabbiare i fanesi così racconta il resto del carlino questa mattina allora profilo fasullo con la stessa foto del sindaco tra l'altro c'è chi c'è caduto c'è chi c'è cascato il fake di si chiama Riccio Mattei quindi proprio nulla a che vedere con quello vero ma comunque basta una foto e qualche lettera un po' spostata Riccio Mattei fa arrabbiare i fanesi il vostro ponte scrive sul profilo facebook rivolgendosi e giudicando il ponte di Fano il vostro ponte sul porto è brutto ecco che capirai contestazioni insulti un contrapasso per Matteo se di Pesaro perde il capitano in 8400 seguono subito il meteo del marinaio c'è qui il racconto di Elisabetta Rossi un po' su quello che avviene sulla città di facebook perché poi di fatto facebook è diventata una città dove ognuno può fare e dire quello che vuole più o meno insomma e quindi è un racconto che vi invito a leggere allora tagliato poi la cronaca con la cassaforte tagliata e i 10.000 euro prelevati in via Bertani in zona Piazza Reti l'abbiamo visto poco fa sulla cronaca di Pesaro andiamo sulle pagine di Fano invece abusivi nei parcheggi Forza Italia denuncia il comune pronti a misure drastiche Mirisola di Forza Italia dice Fanesi ormai costretti a pagare il pizzo gli azzurri hanno presentato una mozione per impegnare l'amministrazione al controllo e secondo Forza Italia le zone più calde per la presenza di parcheggiatori abusivi sono alla Rocca Malatestiana in Piazza degli Avveduti in via Montevecchio davanti al pronto soccorso a San Lazzaro nel nuovo nel vecchio parcheggio appunto di San Lazzaro all'ex Foro Boario e agli ex carri di Carnevale nonché all'ex caserma Montevecchio insomma dove si parcheggia ormai è davvero ci sono ci sono questi questi giovani di colore che chiedono chiedono l'obolo Profuvi cercasi cercansi due strutture da 16 posti ciascuna Ponte Sasso Spera presto il sindaco farà un sopralluogo all'ex colonia Mater Purissima intanto Barnesi incontra le cooperative pestarono due ragazzi al Lido di Fano condannato l'intero l'intero gruppo un anno e due mesi per sette imputati mentre l'ottavo patteggia una vittima restò in coma per una notte intera il brutale episodio avvenne in una notte del giugno 2013 tra gli aggressori ci sono anche quattro ci furono anche quattro donne non solo via Cavour il comune rilancia ogni piazza diventerà un salotto c'è stato un altro incontro con gli esercenti ci sono tante idee in pentola piazza Miani per esempio non sarà più solo un giardino e si collegherà all'ex collegio Sant'Arcangelo anche qui sotto la cronaca donna di 64 anni trovata morte in casa l'intervento dei vigili del fuoco scintilla dal camino siamo a Fermignano anziana tra le fiamme è gravissima austionata anche la figlia l'incendio poi di vampa anche in cucina ma viene subito spento la casa è al momento inagibile la donna è stata trasferita al centro Grandi Ustioni dell'ospedale di Parma e poi sotto a Sant'Angelo invado la soddisfazione di Settimio Bravi soddisfatti per Tajani ok ci fermiamo qui la rassegna stampa torna domani mattina alle 7.30 puntuali intanto salutiamo anche quelli che ci ascoltano e ci vedono in replica durante la giornata e anche sul nostro sito internet occhilanotizia.it stasera invece alle 20.30 ci vediamo con il telegiornale se avete segnalazioni da fare alla nostra redazione fatele pure noi le ascoltiamo tutte le verifichiamo tutte al 338 4968 250 a voi tutti l'augurio di una buona giornata grazie a tutti